Sì, anche per quest'anno abbiamo pensato di ricordare San Defendente, il santo più celebrato unitamente a San Rocco in questa chiesa e il comitato si è impegnato a promuovere e a ricordare questa figura del santo il 2 di gennaio viene celebrato. Lo ricorderemo con dei festeggiamenti, inizieremo il giorno 30 però, che è un giovedì, e ci sarà una messa solenne cantata in questa chiesa nella quale verrà ricordata ovviamente la figura del santo. Domenica 2 gennaio, dalle ore 15, ci sarà la distribuzione di Vimbrulè nel piazzale antistante alla chiesa, accompagnato a dei dolci natalizi e alietato dal suono degli zampognari. Dopo il di che, verso le 16, ci sarà un concerto dei campanari della città di Bergamo e a seguire, dalle ore 17, una interessantissima visita guidata a cura della dottoressa Patrizia Iorio. Ricordiamo che la dottoressa Iorio ha dedicato la sua tesi di laurea a questa chiesa e di recente ha tenuto anche un seminario di studi presso la biblioteca Angelo Mai di Bergamo, che ha suscitato un notevole interesse relativamente alla storia e agli affreschi e anche al recupero di questi affreschi. Bisogna poi aggiungere che il Comitato di San Defendente ha partecipato alla realizzazione del calendario dedicato al terzo centenario della Basilica di Clusone. Sì, è così. Abbiamo voluto renderci partecipi in qualche modo di questi festeggiamenti per un evento così solenne sicuramente da ricordare, il trecentenario della nostra Basilica che sicuramente richiamerà fedeli e visitatori. Il Comitato si è reso partecipe quest'anno dedicando alla Basilica il calendario del 2011. Ci siamo fatti promotori di questo evento e distribuzione presso la nostra Basilica e presso la nostra chiesa di San Defendente verrà distribuito anche il giorno 2. In questo proposito volevo ringraziare lo sponsor Macelleria Giudici di Clusone, grazie al quale è stato possibile realizzare questo calendario. E da ultimo, non perché meno importante, bisogna ricordare che nella chiesa di San Defendente anche quest'anno è allestito un presepe. Assolutamente sì, ci teniamo molto anche per quest'anno ricordare il vero significato del Natale con l'allestimento di questo presepe che è appunto la natività nel significato più vero e perciò abbiamo voluto allestire anche in San Defendente questo presepe e grazie soprattutto è stato realizzato da Pierangelo e ragazzi dei confratelli della nostra squadra del Comitato che come sempre ci danno una mano, perciò ringraziamo anche per questa realizzazione e invitiamo i clusonesi e i visitatori a venire insomma a visitarlo. Grazie.